molti dei nostri modelli di cornici sono realizzati utilizzando decorazioni in pasta di legno la pasta di legno è un prodotto di derivazione del legno in sostanza si produce industrialmente mescolando farine di legno a una piccola percentuale di solvente questa mescola innovativa consente di creare un materiale che una volta secco si presenta molto simile al legno si veda nel video come l'operatore incolla le decorazioni della cornice negli appositi spazi poiché la pasta di legno conserva le medesime proprietà del legno le decorazioni si possono fissare con colla da falegnameria e chiodi proprio come se fossero di legno si noti come l'operatore dopo aver preso le necessarie misure ed aver preparato le varie decorazioni da disporre in ordine secondo la logica delle modanature sparge di colla il retro di ogni guarnizione per poi fissarla alla cornice si veda inoltre come per mezzo di un pennello si procede ad eliminare la colla in eccesso quella che vedete è una tecnica innovativa perché si rivela essere il giusto compromesso tra l'utilizzo di nuovi materiali e l'utilizzo di nuove tecniche che agevolano il lavoro in sostanza usare la pasta di legno serve per realizzare prodotti duraturi di altissima qualità ma al tempo stesso prodotti ad un prezzo molto conveniente trattandosi di un materiale intagliabile si può procedere alla rinfrescatura di ciascuno degli intagli applicati sul profilo della cornice si può cioè dare un passaggio ulteriore di sgorbia che migliora le forme dell'intaglio ed elimina eventuali imperfezioni in conclusione una cornice come questa è ben poco diversa da una intagliata interamente a mano ovviamente ciò che davvero cambia in modo sostanziale è il costo finale della cornice realizzata in pasta di legno costa generalmente una cifra più che abbordabile